Salve a tutti ragazzi, qui è GZFGamer e benvenuti in questo nuovo video su Call of Duty Advanced Warfare Stiamo giocando a gioco delle armi e vedo già qualcuno là, oh, alle spalle Porca miseriaccia, oh, aspetta, tra l'altro hanno già iniziato la partita da un paio di minuti No, forse minuti no, ecco, da circa 30 secondi o poco più, quindi direi che possiamo recuperare Abbiamo iniziato, direi non benissimo, perché ci hanno ucciso un paio di volte Oh, aspetta, aspetta, sei mio, beccato ragazzi, beccato Vediamo se arrivano altri, oh, mamma mia, via da qua, cavolo Non potevo ucciderlo, no, che non potevo, forse sì, sei mio bro, eliminato, ottimo Oh, ce n'è un altro qua, ma porca miseria, perché non l'ha ucciso? Davvero, forse dovevo fare anche un po' di... No, non muoverti, ti prego, cavolo, dove sei? Che fine ha fatto? Oh, dovrebbe essere di qua, ed eccolo qua, finalmente, ti ho inseguito per 100 anni Qualcuno che si sta sparando qui Oh, aspetta, sei mio Cavolo! Ma perché non vinco mai un conflitto a fuoco? Ma what the fuck? Sono miei? No, non riesco a beccarlo Oh, ma ciao! E finalmente, era ora che riuscissi a beccarne uno in questo modo Adesso Vediamo se c'è... Oh, l'ho visto! Mamma mia, ragazzi, che azione che stavo per fare qui Mi ero scansato, però purtroppo nulla da fare, mi è andata male Allora, dovrebbe esserci qualcuno proprio qui su Sei mio? Porca miseria, oh, ma questi devono per forza rompermi le palle Allora, usciamo all'esterno e vediamo chi c'è Ma ciao! Eliminato, sì! Vediamo se qua all'interno c'è qualcuno Potrebbe esserci all'entrata, eh Di solito in questa zona c'è sempre qualcuno Oh, come hai fatto a non vedermi tu? Perché stai dormendo? Che cazzo è? Oh, eh, sì, 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 è inutile che ti pieghi Scusa! Sì, l'ho ucciso, ragazzi, ce l'ho fatta, però Attenzione che come punteggio stiamo a otto Oh, oh, oh! Che cazzo è quest'arma che non sparano? Non sono abituato a questo genere di armi Allora Si riparte all'attacco, ovviamente Non mi va di restare fermo in un singolo punto È noioso per me Ora, vediamo se c'è qualcuno in giro Ci sono spari qua? Eh, sì, che ci sono spari T'ho visto No! Però possiamo uccidere lui Non è morto, cavolo, non è morto Cosa ho fatto? Un 360? Ma cosa cazzo sta succedendo? Dove sei? T'ho visto, amico mio Eliminalo Perché... No, l'ha ucciso qualcun altro, ragazzi Ma cos'è? Cosa diavolo sta succedendo, no? Ho fatto 9 uccisioni e c'è qualcun altro che ne ha fatte 12 Quindi dobbiamo un po' recuperare, eh Eravamo più o meno Non dico in vantaggio Però era facilmente recuperabile il tutto Oh, alle spalle Sempre alle spalle Sti vergognosi Dove siete? Non mi farò battere Fanculo Dove sei tu? Ne è passato uno Porca miseria Perché non muori? Ah, finalmente 12-12, ragazzi Abbiamo recuperato davvero in pochissimo tempo Poi tu diventi mio Ucciso E poi c'è qualcuno qua Muori Ah, beccato Ha fatto male, vero? Ragazzi, ne ho fatti 5 di fila E pensavo di aver iniziato Davvero malissimo Oh, ma dove è comparso lui? Vabbè Facciamo finta di nulla Oh, oh, oh Stai, movimenti strani Mio Attenzione, attenzione Vediamo Dovrebbe esserci qualcuno qui all'esterno Mamma mia, ragazzi E si parte alla grande Attenzione Vediamo se riesco a beccare Qualcuno che, come al solito, sarà qui fuori Ma come fanno questi a non vedermi? Beccalo, beccalo Mamma mia, ragazzi Un Joseph di Heimer scatenato Anche se, se non sbaglio, dovrebbe esserci Infatti, come pensavo Qualcuno qui Ma ciao No, mancato No, faccio ste cazzate Vabbè, ragazzi Non importa Sapete che con sti fucili da cecchino Faccio piuttosto schifo Quindi Già essere riusciti a sparare È stato qualcosa per me Sono sicuro che mi stai inseguendo No No Perché questa cosa? Oh, aspetta Eh, ragazzi, ma Preso Oh, avrà fatto male Lo so Eh, vabbè Aveva, diciamo, cose piuttosto forti Contro cui potevo poco e nulla Però aspetta C'è qualcuno qui, eh Oh, che miseria Aspetta, attenzione Dove sei? No, l'ho mancato Come ho fatto a mancarlo? Oh, ricarica, ricarica È qui? No Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che vergogna Cosa ho fatto? Oh Eh, ma ciao amico mio Beccalo Oh, avrà fatto male Perché faccio poi ste cose? Avrà fatto male Ma cos'è? C'è gente qua Eh, vabbè Tutto inutile Tra l'altro ragazzi Siamo in vantaggio, eh Quindi potremmo vincere Basta solo un po' di concentrazione in più E potremmo vincere Ho la pistolina della chicco Mi sa di sì Quindi Oh, quello è morto Ricarica? Perché ricarico Quando non c'è motivo Perdo tempo Ah, porca miseria Eh, t'ho visto amico mio Anche se potrebbe uccidermi Ma non te lo permetterò Sì No, cos'è sto coso? Allora andiamo in zona esterna, eh Beccalo Cos'è stato? Cos'è questo coso? Non ricordo Di averlo usato in passato A meno che Non l'abbia usato una singola volta Per giocare appunto a gioco delle armi Visto che è una prima partitozza L'ho fatta sul primo canale Dove diavolo è? No, ragazzi Che merino di merda, eh Davvero Non riesco nemmeno ad inquadrarli I nemici così Preso Oh, sì E finalmente Un colpo morto Sboccate, amici miei Lo so che sei qua dietro Perché questo silenzio? Sì Ragazzi La vittoria è in pugno La vittoria è in pugno Muori Perché non muore lui? La vittoria è in pugno Centro perfetto, ragazzi C'è la vittoria per Joseph Gamer Finalmente Spero quindi che questa partitozza vi sia piaciuta Per cui vi ricordo di lasciare un bel mi piace E di iscrivervi al canale Se non l'avete fatto In descrizione come al solito Trovate il link della mia pagina Facebook Per visitarla E vedere un po' tutte le novità Per quanto riguarda il canale Quindi ragazzuoli Io vi saluto E alla prossima Ciao 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 Grazie.